Da ancestrali ghiacciai a nuovi itinerari è il titolo della rassegna culturale che avrà inizio giovedì 13 aprile al Centro Culturale Bicelazzari di Querovas. Cinque gli appuntamenti dedicati al viaggio nella natura. È primavera e al Centro Culturale Bicelazzari di Querovas, dopo anni di assenza, riprendono le serate a tema viaggio. Cominceremo con Una strada nella storia, il documentario quasi inedico di Marco Recalchi, unito da una chiacchierata tra studiosi riguardo il tracciato della via Claudio Augusta Altinate. Sarà poi la volta di un trail avventuroso nel Dolpo, considerato l'ultimo sperduto Tibet. Un appuntamento sarà poi dedicato a Death Cube, l'associazione fotografica feltrina, con tre intrepidi ragazzi che sfideranno il freddo dei fiordi norvegesi per fotografare l'aurora boreale. Un appuntamento sarà anche dedicato alla montagna, dal titolo Dolomiti, il paesaggio totale. Il geologo Danilo Giordano ci illustrerà la formazione geologica delle Dolomiti, delle Prealpi, fino ad arrivare alla conca glaciale di Querovas. E finiremo con uno studio scientifico con la mappatura dei lupi nel massiccio del Monte Gratta. Vi aspettiamo a Querovas, al centro culturale Bicelazzari.